Ciao ragazzi, un saluto da Xpat6, ben ritrovati sul mio canale, siamo con un altro episodio di AutoSail Life dove un po' ci avevamo lasciato nello scorso episodio dove abbiamo fatto un po', avevamo cercato di fare qualche soldo, avevamo avuto macchine e poi però purtroppo, come sempre, siamo un po' sfigati in questo momento nel nostro concessionario dopo aver, dobbiamo ripartire da zero, dopo che è successo un casino nella nostra vita abbiamo iniziato da zero, ma ci sta un muro che non riusciamo a scavalcare, siamo sempre lì con qualche soldo di qua però non riusciamo mai a fare il salto di qualità, a vendere, a comprare qualche macchina importante vediamo se in questo episodio ci riusciamo, intanto carichiamo la nostra partitazza e vediamo un attimo se riusciamo a fare qualcosa oggi avevamo venduto i maggioloni, avevamo fatto, comprato, venduto, però siamo sempre lì, avevamo schillato molto il personaggio, mi ricordo avevamo schillato anche per contrattare, per cercare di alzare anche 100 dollari di più vediamo se riusciamo a fare qualcosa, perché questo gioco c'ha anche una struttura dove possiamo andare a fare le aste come si fanno nelle aste americane, tipo, io offro mille in più, potremmo comprare macchine anche all'aste ma adesso non abbiamo soldi per poter comprare le macchine all'aste, ragazzi, abbiamo già i soldi ma la pena per mangiare tra poco, quindi, dobbiamo un po' un attimo capire tutta la situazione qui siamo ancora a casa nostra allora, ci abbiamo sempre questi 4.000 dollari che non riusciamo a farli fruttare noi dobbiamo fare 20.000, l'obiettivo è raggiungere l'obiettivo ma, secondo me, dovremmo fare una cosa intanto, aspettate un attimo, devo fare una cosa, devo alzare un attimo un po' l'odio del gioco, che è un po' basso eeeh, che vi volevo dire? eeeh, quindi dobbiamo cercare un attimo di vedere che cazzo dobbiamo fare poi dobbiamo pure abbellire dare una cosa anche alla nostra al nostro concessionario cioè, dobbiamo mettere una poltrona, una sedia quindi dobbiamo fare soldi il nostro obiettivo è fare soldi eeeh, non possiamo fare un cazzo perché, sinceramente vedi, possiamo anche andare a potremmo fare la pubblicità come dissi l'altra volta di macchine usate organizzo un meeting potremmo fare allora, un veicolo conveniente durè, deposito 480 prezzo auto vabbè, questo è le pubblicità di auto usate qua, potremmo vedere, che ne so vedere le auto usate in questo momento però, ragazzi, cioè i prezzi sono non sono alla nostra portata purtroppo eeeh, pubblicità potremmo fare un po' di pubblicità online però pure qui 2500 dollari, ragazzi che cazzo c'è dovremmo investire parecchio dovremmo anche migliorare un po' il design mettere qualche qualcosa che cazzo ne so vabbè, qua ma non abbiamo soldi poi arredamento potremmo mettere qualcosina cioè, qualcosa dovremmo cominciare a fare perché se no, raga è inutile che stiamo a fare qua cioè e niente signori quindi oggi questo è dobbiamo andare a vendere a comprare qualche macchina ovviamente sempre con il con il tassi dobbiamo andare andiamo al negozio di auto vediamo un attimo se riusciamo a meno a comprare una macchina eeeh io in questo episodio voglio cercare di fare il botto a meno di fare 6-7 mila euro ragazzi eh, ma il fatto che che cazzo di auto compriamo tipo son qua questo è bellissimo bellissimo quando lo vendi? oddio 2,974? oddio, raga qui ci possiamo rifare una barca di soldi eeeh eeeh migliore tua abilità guarda eeeh se mi dai 2,5 quasi siamo guarda 2,5 e 50 vabbè è possibile che non riusciamo mai a contrattare il prezzo che diciamo noi porca puttana guarda 2,600 ma vattene a pianbraccio dai su chiedi riguardo lo stato dell'auto vediamo un po' se possiamo far qualcosa allora l'auto perizia possiamo fare una pezza di 250 dollari e ci fa fare la perizia ovviamente controllare lo stato del veicolo però raga lo sai che non è male aspetta facciamo torniamoci non è male perché questo possiamo vendere anche 6.000 euro questo furgoncino poi questo quando lo vendi sta macchina? 2,6 vediamo un po' lo stato dell'auto tutto originale il il furgoncino è anche tutto originale la macchina non presta danni guarda se me la chiudi a 2,200 te lo do vabbè ragazzi però se sto gioco fa così non ci possiamo avvicinare no vabbè io voglio prendiamo questo che secondo me a 6.000 dollari lo possiamo vendere secondo me guarda va bene acquistata grazie speriamo che non sia rotta se no potevamo fare una perizia per 2,5 ma non lo so autodanneggiata ce la siamo pronta in braccio perfetto dobbiamo vorrei farlo aggiustare guarda secondo me 6.000 dollari 6.000 dollari lo vendiamo scusatemi secondo me il 2.000 dollari no 6.000 dollari lo possiamo vendere possiamo venderla a tutti gli effetti che è un bel furgone tutto originale ci possiamo giocare il fatto anche che è tutti i pezzi originali oh ho sta testa di cazzo ci possiamo giocare il fattore che è tutto originale io vorrei provare a mettere anche più auto in vendita ma i soldi sono sempre quelli cioè dobbiamo cercare di fare il botto con qualche macchina oh vediamo pure quando se ne va per sistemare l'auto eh eh vediamo quando se ne va per sistemare questa 730 ok siamo rimasti con pochi spiccioli eh però dovevamo ripararla purtroppo in questo momento cambiamo cambiamo la giornata che dobbiamo fare non possiamo fare altrimenti con questo ragazzi dobbiamo guadagnare a meno se ah guarda io lo metto a vendere a 7000 a 7000 dollari non me ne frega un cazzo 7000 dollari meno di 7000 non lo vendo eh vaffanculo l'auto è pure pulita ma meno di 7000 non lo vendo eh massio posso scendere a 6,5 ok lo mettiamo qua massio posso scendere a 7,5 no raga è bellissimo tutto originale ma che cazzo no questi ragazzi si vendono pure di più vogliamo provare a mettere 10.000 vogliamo mettere 10.000 che cosa è questo competizione competizione auto cerco un'immagine no no competizione allora vogliamo provare a metterla apri la vendita no il prezzo ragazzi io metto 10.000 no 100.000 mille ah 10.000 non lo posso mettere eh ma sei un pezzo di merda allora 9.000 perché scusa convenienza prezzo no ma scusa ma questi sono furgoni ma scusa 7.000 cioè quindi io prendo che quando lo mette 5.000 ma dai ma che cazzo stai dicendo su 6.5 ecco 6.5 già ci siamo secondo me allora ehm tutto allora facciamo tutto originale ehm senza ehm senza mai fatto un incidente ehm furgone questo tipo anni anni 70 mi sa che è d'epoca ehm usato ehm usato unico proprietario facciamo così proprietario ok allora 6.500 eh raga conferma prezzo io 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 meno di 6.5 non la vendo perché 7.000 non ce lo fa mentre io meno di 7.5 non la vendo mi dispiace ehm pubblicità non la possiamo fare ma scusa ma non potevamo chiedere un prestito noi una volta qua non si poteva chiedere un prestito no questa è compra no no non si poteva chiedere un prestito affari no fatture non hai pagamento domanda da consegna apri il pago automatico non hai tasse fatture da pagare scusa ma non si poteva chiedere una volta il prestito vabbè avevo visto che una volta si poteva vabbè allora ragazzi abbiamo messo in vendita il cartello vediamo se viene qualcuno a comprare la nostra auto intanto vediamo no ah abbiamo tre punti allora abbiamo tre punti allora facciamo un punto a questo e facciamo due punti al mercante a vita di mercanti a meno cominciamo a poter anche contrattare sul prezzo anche a bassa di 200-300 dollari perché se no siamo rovinati qua la mia borsa che c'ho una mela mangia mangia che siamo un po' ok basta così aspetta vediamo se viene qualcuno non lo so il prezzo è un po' troppo elevato 6500 però ragazzi dai tutto originale che cazzo ma ragazzi è bello cioè ci vale tutto 6500 secondo me in questo momento non sta venendo nessuno quindi mi preoccupa che forse non siamo buoni venditori vabbè vediamo un attimo intanto vabbè andiamoci a comprare qualcosa a mangiare vediamo se qualcuno è interessato al prezzo 6500 purtroppo raga non potevo mettere la vendita 3000-4000 perché siamo sempre là cioè non posso c'è dobbiamo farla a fare allora mi dai sì va bene è così vediamo se arriva qualcuno secondo me dobbiamo abbassare il prezzo dobbiamo abbassare il prezzo secondo me sì 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 allora vogliamo provare a mettere a 6000 però mi trovo il cazzo che ogni volta devo sempre abbassare i prezzi allora apri la vendita mettiamo a 6000 6000 6000 no convenienza prezzo no 5 e 5 ma perché ma perché non posso 5 e 5 cioè ogni volta ci devo guadagnare 4 spiccioli 4 e 5 allora è stupido il gioco guarda metto manco più la descrizione guarda dobbiamo mettere a 4 e 5 ragazzi però siamo sempre lì siamo sempre là 4 e 5 4 e 5 cioè o dobbiamo schillare recupera pagamento questa abilità ti permette di riprendere il denaro che hai pagato spazio sulla riformazione cioè che cazzo ogni volta possiamo fa cioè porca puttana ogni volta ci possiamo sempre guadagnare 4 spiccioli di merda sulle cose cioè sì che l'abbiamo pagato 3 e qualcosa capisco però cazzo cioè vediamo un po' se viene qualcuno ma non lo so se viene qualcuno qua la vedo molto molto critica oggi a parte che ci andiamo a dormire che c'ha sonno sto ragazzo vabbè ragazzi andiamo a dormire la vendiamo domani ma chi no non posso fare niente se no ci andiamo a fare qualche soldo a fare il a fare il il tassi secondo me conviene a fare più secondo me conviene a fare più il tassi secondo me a sto punto a fare qualche soldo per comprare una macchina più importante per poi venderla secondo me dobbiamo fare un po' un po' di tassi che ci paga che ci paga 1500 a botta secondo me conviene perché fare così sinceramente ma non capisco cioè se io non posso mettere i prezzi che voglio io cioè capisco che siamo ancora principianti e tutto quanto però ma che fa ma non viene nessuno a prendersi sta macchina scusa cioè non arriva un cliente niente siamo un po' in mezzo alla merda così scusa 4 e 5 il prezzo della scusa allora allora mi sto in cazza facciamo 4000 scusa unico proprietario tutto originale usato proviamo a rimettere così e nel frattempo ce ne va a fare qualche missioncina che dobbiamo fare se qualcuno viene ce lo dice il gioco penso se qualcuno viene e dice che è interessato al a noi alla macchina vabbè andiamo a fare un po' di one drive andiamo a fare qualche soldo raga purtroppo siamo 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 con i soldi così e non riusciamo a vendere un cazzo e dove cazzo mi ha buttato e quindi non ce ne va a fare un po' di un po' di guide un po' di di tassi salve sto morendo di fame vieni alle 8 di mattina dai su smangano 10 secondi su aspettiamo le 8 di mattina dai sono le 8 su move dai dai fammi iniziare a lavorare dai su su vediamo un po' dove stanno i clienti qua va per forza raga tanto accettiamo mi fa qualche soldo così a me ci facciamo 1.5 facili facili che dobbiamo fare ragazzi non possiamo fare altrimenti prendi il bicilindrico qua mamma fai la chiandelletta ma che cazzo di strada mi sta facendo fare passa là ma porca puttana salve salga salga dove la porto la porto lì punto di insiniazione si si non so niente signora non si preoccupi è la macchina che non frena c'è i freni a tamburo infatti sta macchina non frena comunque cioè veramente fa cacare sta macchina non sta macchina c'è i freni a tamburo ah siamo passati avanti al nostro costo credo che il maggiolone sta ancora lì secondo me dobbiamo fare un po' di pubblicità secondo me secondo me sì signora dove cazzo la devo portare ecco a lei signora siamo arrivati prego grazie ragazzi 590 eh eh se no dobbiamo fare un po' di questo secondo me fare un po' un po' di questo eh rompe poi i coglioni ma che dobbiamo fare eh se no almeno possiamo investire su qualche macchina importante cioè se no veramente fare cioè comprare sempre queste cose abbiamo proprio il maggiolone ma nessuno è interessato oh aspetta 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 cazzo c'è un cliente cazzo c'è un cliente vabbè finiamo là poi vediamo se c'è ancora il cliente là infatti non posso scendere dalla macchina che puttana dai facciamo veloce veloce va cazzo mi sta facendo passare cazzo c'era un cliente siamo arrivati boom ah ma tutti qua cazzo è la fermata standard oh oddio l'ho lisciato insomma l'ho lisciato prego oh oh signore sono arrivato eh oh ma che se è buggato albè albè oh ma cazzo si suona signore sono arrivato salve ma che se è buggato mannaggia la puttana oh signore sono arrivato mannaggia la pupazza salga hello te l'ha buggato dove dov'è dov'è la destinazione a me a me a me a me ci come fa qualche soldo importante tanto possiamo vedere quanti soldi stiamo facendo in questo momento secondo me ci conviene far far così ultimamente fare un po' questo non siamo arrivati destinazione madre salve eccolo qua prego 1166 ragazzi poi ce ne facciamo un altro detta così è brutta però ce ne facciamo un altro e poi torniamo live vediamo se c'è ancora il cliente a meno dobbiamo fare un po' così secondo me nel prossimo episodio faremo solo questo ragazzi ve lo dico faremo solo servizio taxi per 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 fare soldi per investire la nostra attività se no possiamo comprare solo macchine di merda fare sempre i stessi soldi e non andiamo mai avanti cioè capito quindi secondo me conviene poi si guidiamo un po' spericolation salve sono arrivato salve hello dove la porto attenzione michael ah ma proprio qui ci poteva andare a piedi ma lei ha paura della velocità eh no sai perché questo taxi non si non si non si controlla non si c'è un cazzo il corso della strada eh ragazzi non so pensiamo ai soldi c'è un cazzo abbiamo mangiato abbiamo va la macchia non frena la macchia non frena ma tutti qua ma tutti ma tutto qua sta destinazione ma tutti qua devono scendere che ci sta qua fammi capire che c'è un posto di lauti tutti qua prego ok thank you allora ragazzi con 1500 io direi che con 1500 dollari più ma la vendita che andremo a fare se c'è ancora il cliente secondo me ci siamo messi a torniamo alla nostra galleria secondo me con questi 1500 dollari più quello che andremo a vendere a me qualche soldo faremo e poi nel prossimo episodio che faremo su uh c'è il signore c'è ancora qui salve eh però vedi a me sta cosa fa già il cazzo il gioco tu non mi puoi offrire 3,7 se il prezzo è 4,000 cioè non ci posso rimettere su se contratta con l'offerta mi dai 4,000 no 4,000 ma tu che ne sai ma fai il venditore d'ao che ne sai se questo veicolo vale sì o no cioè vedi a me questa cosa mi fa incazzare cioè io mo ci devo andare a perdere i soldi vabbè allora facciamo 3,8 dai 50 dollari di più ma che si poi lo morto e le fame dai porco 2 oh facciamo 3,7 e 99 no il gioco dice che a me sta cosa mi dà fastidio perché per forza devo accettare il 3,7 53 no vattene a pambù non posso mi dispiace vattene a pambù morto di fame dai vattene a pambù guarda che cazzo di bel furgoncino anni 70 ma sono anche anni 60 non lo so tutto originale ma quanta cazzo è bello cioè almeno 4,000 non me le vuoi dare almeno 4,000 dollari ah cazzo dovevamo riscuotere i soldi da questo la troia aspetta aspetta eh io per la fretta di tornare a una già dovevamo riscattare i soldi da questo ecco 1700 ma comunque 2000 dollari comunque dovevamo riscattare io per la fretta di tornare al cliente la troia non ci abbiamo messo i soldi allora signora ci scrivo non perdi tempo grosso così che cazzo capisco tutto però signora hai soldi ecco questa ancora manco di meno guarda signora te lo dico subito 3700 dai caccia i soldi cioè ragazzi questa cosa mi fa incazzo no non la vendo mi dispiace non la vendo io non ci posso andare a perdere dei soldi cioè abbiamo fatto 850 euro di riparazioni più 3000 di vendita cioè mi costava 3 quant'è 3 7 3 8 è venuta la macchina cioè ci devo guadagnare qualche soldo io c'è che so che so fare scusami cioè come pago la baracca qua fa il tassista cioè facciamoci fa guadagnare il tassista per l'amor di dio però cioè a sto punto io la macchina allora la lascio qua andremo avanti a fare il tassista e man mano metto altre macchine e quella rimane a 4000 io io me di 4000 già se mi faceva 3 8 3 9 ma pure 3 8 e 50 io la macchina l'avrei data però no cioè 3 5 la fame signora hai soldi se non hai soldi lascia aperto lo dico subito guarda sono molto sincero con lei se hai soldi è bene se no non siamo manco qui a parlare io dico subito hai soldi 3 allora 3 7 e 60 sembra pulito lo compro se ci mettiamo d'accordo sul prezzo allora il prezzo io voglio 3 e 8 ma ma lei che ne sa è una sperta di veicoli lei che ne sa ma che ne sa se il veicolo vale meno di più cioè non lo so ragazzi allora scusa facciamo 3 7 e 80 no lei ha fissato 3 7 e 62 per lei 3 7 e 1 c non va lì più vabbè dammi stavola vabbè dammi sti soldi vai andrà a vattene nel piedi sta macchina e già mi ha rotto il cazzo cioè dai però cioè non lo so ragazzi non lo so allora secondo me dovremmo mettere tutti i punti sull'abilità di mercante si può togliere e dove dovremmo fare quei aspetti disfare disfare no facciamo un punto qua e un punto qua secondo me si raga dobbiamo skillare queste queste tre cose urgenti perché se no raga non riusciamo a fare più niente mi dispiace è una cosa che che mangiamo un po' di zuppa va bene andiamoci a dormire ragazzi e poi andremo a fare solo tassista dobbiamo almeno arrivare pure a 20.000 secondo me se ci arriviamo a 20.000 possiamo fare tante cose perché sono così ragazzi sinceramente la vedo dura perché siamo sempre lì diciamo con le pezze al culo si può dire così con le pezze al culo sembra che cioè compriamo a 2 a o a 3 rivendiamo a 4 cioè che siamo a fa' i soldi non crescono mai rimangono sempre là infatti più di 5 non siamo mai arrivati 5 6 scendiamo 2 3 cioè non va bene signori io faccio la salvatina e ragazzi ci possiamo salutare qui per questo episodio di autosale live dove comunque abbiamo capito che dobbiamo fare soldi quindi questo è signori intanto con lo rambo sottofondo noi ci salutiamo qui ragazzi e niente grazie di stati con me un saluto da xpaziox alla prossima ciao a tutti ragazzi grazie a tutti